gentili telespettatori buona giornata quando vedo le immagini o le foto di giletti che è andato là per vedere da vicino la crisi internazionale fare audience sfruttando questa questa cosa mi viene una grande pena lui si dimena risponde a tutti alla lucarelli a muccino voi di qui voi di là ma caro giletti a me sei proprio scaduto da una parte salvini che va in polonia per propaganda elettorale per per le elezioni politiche è stato veramente ridicolo tu o lei giletti che va a fare la trasmissione da là è veramente di uno squallore inenarrabili inenarrabili tutto questo uno per le elezioni tutto questo per l'audience tutto questo per l'audience attenzione non c'è nessuna desiderio di informazione ci sono centinaia di reporter e televisioni di tutto il mondo ci sono video migliaia di ore di video c'era bisogno di giletti che andava lì col giubbottino presse e col caschetto in testa c'era bisogno vero avevamo bisogno di giletti che ci raccontasse o è giletti che ha bisogno di alzare l'audience per sentirsi il conduttore di talk show più bravo in italia quello che fa più ascolti quello che fa guadagnare di più la propria televisione la 7 che avendo più ascolti più le pubblicità pagano più la rete televisiva guadagna più il contratto con il conduttore l'anno dopo è alto ma guarda un po che dopo le critiche la 7 lo difende critiche ingenerose la 7 lo difende è certo è la 7 che lo ha mandato là che ci è andato da solo cosa voi credete veramente che i conduttori televisivi facciano quello che gli pare uno un giorno scriveva ma il giornalista non è un lavoratore ma va là il giornalista non è un lavoratore il giornalista è uno dei lavoratori più condizionati o scrivi o fai quello che dico io o fuori dalle balle la linea editoriale cosa credete che i giornalisti di travaglio possono scrivere quello che hanno voglia voi credete che i giornalisti di repubblica del corriere del giornale possono scrivere quello che hanno voglia ufficialmente sì ma c'è una linea editoriale una linea editoriale ben definita ti puoi muovere qui dentro ma se esci fuori dal seminato mi dispiace quella è la porta eh quindi giletti non è andato da solo là col caschetto no è scritto qua press no non c'è dato da solo ci è andato d'accordo e quindi ci è andato d'accordo con con il suo datore di lavoro è ovvio che il suo datore di lavoro lo difende critiche ingenerose povero giletti l'ha fatto per noi è andato là povero giletti l'ha fatto per noi berlusconi è sceso in campo lui è andato là ha condotto la puntata di la sette straordinaria la puntata straordinaria in un contesto difficile povero giletti le critiche che ha ricevuto sono del tutto ingiuste dice la sette povero massimo che l'hanno criticato lui che come salvini fanno le colombe della pace ma la nota ufficiale della sette che lo ha mandato lo difende ovviamente cosa faceva lo attaccava no prima lo mando poi gli dico che che l'è un ebbe ebbe la trasmissione aveva scatenato poi proteste abbastanza forti social per i servizi che hanno mostrato hanno mostrato delle immagini ecco naturalmente come dice la lucarelli la spettacolarizzazione delle tragedie altrui cioè dai povero giletti su e su dai e su dai non non è povero giletti ha ragione la lucarelli io la che la lucarelli l'ho ferocemente criticata sempre sempre nei limiti del dell'educazione e mai nelle offese chiaramente le mie sono sempre critiche si criticano gli atteggiamenti giletti qui è arrivato veramente sul fondo aveva cominciato a non piacermi quando diceva al direttore della sede del tg di la sette mentana mentana diceva ma che razza praticamente diceva ma che razza di trasmissione stai facendo sei lì che inviti negazionisti complottisti il medico col braccio di silicone e mentana diceva ma che cavolo stai facendo e lui diceva questi sono i talk show bisogna invitare anche gli stregoni come dire quelli che le sparano grosse perché il talk show serve come intrattenimento ci dice il talk show non è informazione aveva fatto capire come dire tu fai il telegiornale informi il talk show non informa il talk show deve fare numeri visualizzazioni quando senti beh lui adesso io lo sto ricordando a memoria non ha detto queste parole ma il concetto era questo quando ho sentito queste cose qua lì giletti mi è scaduto ha cominciato ad andare giù come salvini poi visto anche quando ha invitato ha avuto l'esclusiva subito invitate quello il dentista che era andato col blanco braccio finto di silicone a farsi vaccinare lui subito l'ho invitato perché per informare tu inviti quello col braccio di silicone per informare di che cosa di dove l'ha comprato lo ha invitato per fare audience ascolti 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 bene per questo vi dico la televisione è proprio scaduta in basso attenzione che in questa logica degli ascolti ci sono dentro tutti i conduttori televisivi anche quelli che voi stimate tutti i conduttori televisivi le le reti televisive gli fanno una testa così e gli ascolti e l'audience hai fatto il 5,1 hai fatto il 5,4 e quell'altro ha fatto il 6 dobbiamo battere la concorrenza tutto ovviamente per questione di soldi l'audience è legato a più vedono il programma più le pubblicità pagano un prezzo più alto e più la televisione guadagna avete capito le le reti televisive fanno pressione sui conduttori come dire tu mi devi fare l'audience perché se perché se non mi fai l'audience quindi se non mi fai l'audience il prossimo anno magari guardo da un'altra parte cerco qualcun altro quindi il conduttore televisivo come il manager di un'azienda che deve portare dei risultati economici anche il conduttore televisivo non è lì per farsi i fatti suoi e parlare di quello che gli piace è lì per portare degli obiettivi economici all'azienda e come il dirigente di azienda se non li porta fuori dalle balle è chiaro perché tutti i conduttori fanno il giletti che addirittura prende va là col caschetto ma va là va là arrivederci a tutti e grazie